Siamo sempre una cosa affrontando i vari temi che abbiamo trattato in questo periodo perché poi Papa Faccaldo si pone quasi come capitolo di una trilogia ideale di cui magari parleremo anche oggi e sono tutti temi che noi abbiamo sviluppato in quanto proprio responsabilizzati dal fatto che siamo stati costretti in modo molto positivo e gradevole a crescere proprio perché abbiamo affrontato la paternità. E quindi siamo diventati più responsabili e ci siamo resi conto che probabilmente guardando un problema, vedendolo, osservandolo, guardandolo negli occhi il problema ti entra dentro e magari riesci ad affrontarlo con un'importanza maggiore.